Arnold Schoenberg Arnold Schoenberg è stata la figura più rappresentativa dell'espressionismo musicale, nonché inventore della musica dodecafonica, un linguaggio musicale di portata rivoluzionaria. Arnold nasce nel 1874 a Vienna, in una colta famiglia ebraica, che gli insegna i primi rudimenti musicali. La sua formazione non è molto accademica. Nel 1889 il padre muore e il giovane è costretto a lasciare gli studi per motivi economici. Lavora e nel frattempo studia da autodidatta. La sua vita da compositore è spesa a Vienna e poi a Berlino, città che abbandona quando divampa la Seconda Guerra Mondiale per via delle sue origini giudaiche. Si trasferisce a Los Angeles e qui insegna come direttore musicale all'università e si dedica alla famiglia. Si spegne nella città californiana nel 1951. Schoenberg ha scardinato la musica dall'interno, trasformando il sistema tonale in uno atonale, dove sparisce ogni gerarchia tra i gradi della scala. Successivamente fonda un sistema basato su una serie fatta dei dodici suoni della scala cromatica. In ogni composizione, ogni serie deve essere esaurita del tutto, prima di poter ripetere un suono già eseguito in precedenza. Stiamo parlando della dodecafonia. A movimentare le serie concorrono quattro sue varianti, trasportabili su tutti i gradi della scala cromatica. Le composizioni di Schoenberg non sono tantissime, ma tuttavia significative. Ancora tardo romantico è il poema sinfonico Pellea un Melisande. Mentre appartengono a un linguaggio musicale nuovo, il melodramma L'attesa e il poemetto Piero Luner. Anche negli Stati Uniti continua a comporre. Mosè e Aronne e Un sopravvissuto a Varsavia sono i due maggiori lavori dodecafonici. Per fortuna che la dodecafonia si basa su dodici suoni. Ne sarebbe bastato uno in più per mandare in crisi Schoenberg, che soffre di una versione maniacale per il numero 13, tanto da evitarlo ad ogni costo nella vita e nelle opere, anche a costo di scrivere inesattezze. Non ha potuto scegliere però la sua data di nascita, 13 settembre, né quella di morte, 13 luglio.